Amico, primo posto, Varagussa. Allora, Cremaschi Andrea, Dottor Marco, Berni Simone, Salino Vento e Bossi Riccardo. Siamo arrivando Cremaschi, Baroni dall'esterno. Siamo arrivando a Bambini, a Bambini, a Bambini, a Bambini, a Bambini, a Bambini, a Bambini e a Bambini. Siamo al massaggio, alla campagna, nuota tra compagno e squadra, prova in uscita, Cremaschi all'esterno, prende la prima posizione, con un allungo decisamente Cremaschi. E' un secondo posto, i Baroni, i Bambini, la Bambini.